E' stato tutto sommerso dalla neve! Che cosa faremo adesso? Brrrr! Yocca a posto! Neve cade da montagne tutte le volte! Tutte le volte? Ma tutte Ixler Birdfest! Aspetta! Valanghe come questa seppelliscono completamente le vostre case ad ogni festival! Davvero! Questa? Essere valanga grande! Ma non è niente problema perché Yocca è forti! Yocca scava attraverso neve! Non vorrà molto! Bene! Avete già pronto un piano di emergenza? Ah! Ora vi aiuto! Ah! Sono stanca! Dovremmo essere alla fine! Oh no! C'è ancora neve dappertutto! Yocca scava ancora! Yocca basta scavi! Così peggiora situazione! Ok! Tranquillo principe rado e forte! Ora torno a Pony ve la chiedere aiuto! Twilight e le altre saranno felici di venire a spazzare la neve! Dopodutto! L'unione degli zoccoli fa la forza! Giusto Gummy? Yocca non serve aiuto di Pony! Ah! Bene! Ho capito! Probabilmente è un piano B, vero? Sì! Yocca aspetta finché neve scioglie! Tutta questa montagna di neve! Ci vorranno almeno migliaia di lune prima che si sciolga! Yocca conosciuti per sua pazienza! Beh! Sarà anche vero! Ma nel frattempo cosa mangerete e poi dove dormirete? Ah! Yocca può fare questa fatica! Privazioni rendono Yocca forti Yocca che Yocca sono! Se Pink Pony non d'accordo allora può lasciare subito Yocca Yocca e non tornare mai! Ah! Eh! 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 Ma certo che Pink Pony è d'accordo! Ehi! Ehi! Sperimentiamo delle ricette di neve! Torta di neve! Spaghetti di neve! Panini di neve! Sì! Yocca possono farcela! Yocca è stanco! Yocca ritirà in nuova capanna per dormire! Torta di neve buona! Mmm! Proprio il giusto equilibrio tra freddo e acqua! Ah! Fermo! Yocca mangia nuova capanna per mangiare! Psst! Principe di neve! Cosa sto chiamando? Non ho capito! È evidente! Questa nuova capanna di musica! Ah! E quindi stiamo dondolando per... Shhh! Tu rovina musica di neve con chiacchiere! Cos'è il rumore? Stomaco di Yocca brontola! Yocca affamato! Shhh! Principe Yocca sente Yocca! Questa neve è peggiore che Yocca ha mai visto! Yocca sa bene! Anche Yocca affamato! Eh! Sentito cosa hanno detto! Allora non possono farcela! Yocca basta dondolare! Musica è finita! Se Tualet e le altre lo sapessero, arriverebbero ad aiutare in un batterdali! Devo convincere Principe Rutherford che chiedere aiuto non è un male! Mi dai una zampa, Gammy? Grazie! Lo vedi! Chiederti aiuto non è stato difficile! Pinkpony vi è riuniti attorno al nuovo focolare cerimoniale degli Yocca! Per raccontarmi una storia, una tradizione Yocca! Ciao! Grazie a tutti.